guarda un po vediamo in ombra amici di bonsai d'occidente battete un colpo se vedete la diretta così valerio può riprendere la ringa ma perché mal fai tutti questi effetti di triple flash tre spettatori anche però perché non vedo ma non vedo la chat cinque spettatori grazie a tutti